Quando in qualche modo, dopo la manifestazione del 26 marzo, che è stata una manifestazione che ha avuto per noi due grosse scommesse e due grosse novità, la prima che come sapete è stata dichiaratamente appiccicata allo sciopero globale per il clima, dichiarando che quella era un'unica data, ed era un'unica data dove però si praticava il per questo peraltro per tutto, cioè il venerdì si scendeva in piazza nello sciopero globale per il clima per cui una data internazionale, il 26 marzo si scendeva in una data, se volete, locale, perché era su una città, era su un tema, la GKN, dove però quel tema muoveva tutto l'altro e il tutto. Passata quella data ci siamo chiesti come continuare e siamo stati evidentemente bombardati di ogni tipo di suggestione, alcune molto positive e altre dubbiose, per esempio sul tema, bene allora ora si convoca lo sciopero generale, per cui la discussione in pieno luglio era di convocare lo sciopero generale a ottobre, così come ora a ottobre discuti lo sciopero generale a dicembre. Noi intravedevamo in quella prospettiva dello sciopero generale, così come veniva messa, addirittura una pulsione, ora si può dire a posteriori, quasi elettoralistica perché si calcolava che le elezioni sarebbero state in primavera e infatti poi passate le elezioni, passate con lo sciopero generale, mentre noi volevamo partire dall'idea esattamente opposta. Poi ora ci sono anche le lotte post-elettorali, perché c'è chi invece ha piazzato mesi prima le mobilitazioni pensando al governo Meloni. Il che già in questo meccanismo tu dichiari la tua non autonomia e il tuo essere appiccicato a meccanismi vecchi. Abbiamo cercato di dire l'esatto contrario, cioè noi non abbiamo in questo momento né una forza, né uno schema, né una capacità di determinare la realtà con un grosso movimento di massa, anche perché nella storia quando il movimento di massa scoppia non lo chiede a nessuno, scoppia. Partiamo da quello che siamo, sono d'accordo in questa affermazione, partiamo dalle insorgenze o come voi le volete chiamare che ci sono sui territori e costruiamoli attorno mobilitazione. Quando voi, tutti voi siete venuti, tutte e tutti voi siete venuti il 18 settembre o il 26 marzo su Firenze, avete fatto uno sforzo enorme con i Pullman, avete dedicato a noi del vostro tempo, il giorno dopo avete lasciato un territorio più forte di prima, avete contribuito a cambiare dei rapporti di forza. Quando noi il 2 giugno siamo andati su Coltano, che è un piccolo paesino del Pisano, a impedire una base militare, il giorno dopo la base militare su Coltano e non si faceva più. Poi il potere si ristruttura, trova sempre nuove manovre, il potere è il manganello, il filo pinato, ma prima di arrivare a quello c'è tutta una gelatina, un muro di gelatina che assorbe le tue parole, si modifica per assorbire le tue parole, te le ruba e poi te le restituisce svuotate di contenuto. Per cui poi la discussione non era più di farla a base a Coltano ma di farla in un'altra parte. Però al di là di quello, quindi noi abbiamo detto partiamo per favore, partiamo per favore dai territori, dalle lotte che stanno avvenendo, il che ci dà alcune garanzie. Punto primo, che anche quando io entro in contatto con realtà che hanno un'impostazione politica, sindacale, sociale, differente, io gli riconosco l'utilità di quello che stanno facendo, gli costruisco attorno a mobilitazione e creo un campo dove quelle differenze possono aspirare un domani ad essere superate e diventare ricchezza. Noi per esempio a luglio pensavamo che il movimento contro la guerra, che non a caso si è arenato, dovesse ripartire dalle esperienze ai lavoratori che nei porti provano a bloccare le armi. Quindi indipendentemente dalle organizzazioni sindacali di appartenenza di quei lavoratori e dalla loro impostazione politica, perché quello è l'elemento in cui io oggi qua in questo paese provo a spiegare che la guerra è una forza materiale che si compone di interessi economici e di un'industria della guerra evidentemente. E quindi abbiamo iniziato in qualche modo a proporre a quelle che noi riteniamo insorgenze e vertenze reali di costruirli attorno a convergenza. Oggi la discussione per esempio che hanno i compagni a Bologna, mi raccontavano ieri sera, sullo striscione di apertura è che visto che una delle lotte che ispira la questione del no passante, volevano aprire con lo striscione no passante. Probabilmente ci sarà lo striscione no passante alto, dicevano, lo stanno discutendo ora, spero di non fare spoiler che poi si arrabbiano, e invece lo striscione di apertura stanno discutendo che deve essere lotta contro la fine del mese e lotta contro la fine del mondo unite, o non so che cosa scriveranno. Non è scontato per una lotta territoriale non mettere se stessa di fronte, ma come dire, mettere quella che è stata la convergenza che si è creata su Bologna. Quindi quando noi insistiamo non sarà una data, ma sarà un processo e alludiamo proprio a quello. Cioè qual è la differenza ad esempio tra utilizzare il termine sciopero generale il 2 dicembre quando sciopero generale non ce l'hai, o quando lo usi per esempio per l'8 marzo, o quando lo usi per il Global Climate Strike. In un certo senso, se volessimo essere pulciosi nel nostro ragionamento, non sono scioperi generali nell'uno o nell'altro. Però lì la parola sciopero viene usata almeno in maniera pulita e trasparente, come aderente a un processo, quelli degli scioperi contro il clima, quindi viene usata in termini allusivi a quello che tu vorresti fare, cioè bloccare, come dire, la produzione, bloccare il mondo, ed è un processo. Anche in questo senso ci siamo fatti contaminare. Noi, attaccando le date di convergenza ai Global Climate Strike, ci siamo agganciati a una continuità che loro si sono dati e ci costringono la continuità del nostro processo e dentro questa continuità costruiamo non solo mobilitazione, ma rispetto del nostro tempo e quindi ci chiediamo cosa lascia quella mobilitazione e quella mobilitazione prima di tutto oggi deve lasciare, per quanto ci riguarda, chiediamo due cose minime alla mobilitazione oggi, che lasci rapporti di forza diversi almeno laddove si dà e quindi aiutiamo a produrre rapporti di forza diversi. Penso che anche per voi se un domani c'è una mobilitazione contro la TAV qua che diventa punto di convergenza e affluiscono tutte le lotte d'Italia contro le grandi opere inutili, ma anche le lotte sociali, ma anche il sedacalismo conflittuale, il giorno dopo forse in città un pochino è cambiato, che non vuol dire sostituirsi ai rapporti di forza che voi costruite, vuol dire agevolarli. E la seconda cosa che chiediamo è che nel processo di mobilitazione si dia convergenza, cioè che questo processo di mobilitazione non sia un appiccicume sloganistico, ma sia effettivamente un arricchimento reciproco. E qua c'è un concetto, e ho terminato veramente, che non riusciamo a far capire, non lo riusciamo veramente a far capire, che è quello di trasformare gli appelli, i volantini, le discussioni, le prese di posizione sulle mobilitazioni in un terreno di contesa. Quando noi facciamo l'appello per Firenze, per Bologna, c'è sempre qualcuno che dice manca la parolina, e non avete nominato questa parolina qua, non avete nominato quest'altra parolina qua. Non c'è scritto donne, non c'è scritto animali, non c'è scritto tante cose. In due pagine non c'è scritto niente, in due pagine non scrivi proprio niente, però devi scrivere due pagine, se vuoi fare un appello, dove c'è scritto tutto, paradossalmente. La verità è che noi ci rifiutiamo di scrivere, dentro una piattaforma di convocazione di queste mobilitazioni, tutto, perché noi non siamo tutto. Non siamo. Noi riconosciamo la nostra parzialità, riconosciamo che l'opera di emancipazione deve avvenire dagli stessi soggetti che quella emancipazione la stanno praticando, e che quindi può essere tutto solo se c'è convergenza di questi soggetti, e quindi dentro quella mobilitazione non veniamo a spiegare come si gestisce un ambulatorio popolare, o non mettiamo la parolina sanità, ma poi magari la mettiamo anche perché entra in un ragionamento, ma non è che la mettiamo per una logica elettoralistica per cui io devo, come dire, captare i voti di quelli che fanno la lotta per la sanità. Questa è campagna elettorale, non è lotta, così fanno i politicanti. No, se vuoi che dentro la convergenza viva la tematica dei diritti civili, non chiedi che questa tematica sia sviluppata da un collettivo di fabbrica che ammette candidamente che su quei diritti civili ha delle arretratezze e viene da un mondo che li ha sottovalutati, perché gli chiedi di fare qualcosa che non può fare. Svilisci te, e invece che riconoscere la parzialità e l'errore ammesso apertamente di chi è in movimento, gli stai a fare i voti blu-rosso. La convergenza non è questo, non è questo e non può essere questo. È riconoscere la propria parzialità e allo stesso tempo, quando la riconosci, capisci anche perché devi stare in convergenza. Quindi, io non so, dopo Bologna e dopo Napoli, qual è il passaggio successivo. Magari che queste mobilitazioni, e ho finito, infiammino il 2 dicembre. Io me lo auguro, perché anche se questo sciopero non è convocato come vorrei io, penso che la riuscita della lotta è il piacere e il favore che ci facciamo tutti. Penso che quello sciopero riuscirà a prescindere dalla convocazione dello sciopero, se riuscirà. Riuscirà se questo processo si dà. E quindi costruire il 22 ottobre, il 5 novembre, nonostante chi magari ha convocato il 2 dicembre, non lo capisca, non lo veda, vuol dire anche costruire il 2 dicembre. Questo è quando fai le cose genuinamente e veramente con l'intento di cambiare rapporti di forza. Come abbiamo scritto su un posto ultimamente, è lotta. Se lotta quello che cerchi, è amore se amore è quello che sai dare. Penso che stiamo provando a scrivere un qualcosa, anche di nuovo, rispetto al come si dovrebbe procedere per costruire movimenti di lotta genuini, reali, che appunto si pongono il problema della propaganda, dell'autoreferenzialità. E purtroppo stiamo assistendo molto spesso a questo, anche perché c'è chi punta ad andare in Parlamento, chi pensa a forme di riproduzione, stantie, sempre delle stesse dinamiche. Io voglio fare solo un esempio, tanto per capire cosa non bisogna essere. Abbiamo organizzato a Padova un'iniziativa di lotta in una zona, diciamo, dove c'è, in zona industriale, dove c'è un magazzino, un grosso magazzino dei supermercati Ali, che è una rete di supermercati molto potente nel Veneto, ma si sta allargando anche da altre parti, perché vogliono costruire un nuovo magazzino di 150 mila metri quadri, quindi andando a occupare suolo in una zona che è agricola, dove è presente un comitato di cittadini di queste frazioni limitrofe a Padova, che da anni hanno lottato quando c'è stato l'allargamento della zona industriale e stanno lottando, appunto sono stati i primi anche a mobilitarsi per impedire che questa cosa avvenga. Noi che abbiamo una presenza anche di lavoratori che sono iscritti, hanno fatto grandi lotte dentro il magazzino di Ali, dove venivano applicati i contratti unci. Ali è un supermercato, un'azienda che è presente in tutte quante le gare a Padova che fanno le marce, le robe, sponsorizza, mette a disposizione, fanno vedere che sono quelle pubblicità sui giornali, ogni iniziativa di beneficenza sono presenti, però avevano, c'erano 150 lavoratori, tutti stranieri, ai quali veniva applicato un contratto illegale, l'UNCI, che è una roba della logistica che era il 40% in meno dal punto di vista salariale. Contrabbandando questa roba del nuovo magazzino, col fatto si creano anche altri 200 posti di lavoro. Noi abbiamo immediatamente colto questa iniziativa, questa presa di posizione, abbiamo contattato questi di questo comitato e abbiamo organizzato assieme un'iniziativa davanti al magazzino Ali per andare a porre un problema in città al comune che sembra che abbia già dato sotterraneamente il via libera alla costruzione perché bisogna costruire una posizione forte, netta, radicale contro il fatto che ci sia oggi, perché oggi è criminale, continuare a cementificare, a occupare aree agricole dove vai a mettere cemento. Questo diventa un elemento, abbiamo parlato con i nostri lavoratori iscritti di questo magazzino e sono usciti anche loro perché si rendono conto che oggi una battaglia di questo tipo è una battaglia fondamentale che serve alla città, perché serve a vivere meglio, serve a impedire che succedano quelle... per fortuna vuol dire siamo in un territorio dove anche gli eventi straordinari diciamo sono molto più limitati però comunque più cementifichi più c'è il rischio che ci siano alluvioni eccetera eccetera. Abbiamo posto questo problema, abbiamo costruito questa iniziativa di lotta davanti intanto di presenza davanti gli uffici di questa ditta Ali e poniamo un problema, andremo avanti a fare mobilitazioni eccetera perché vogliamo che il Comune su questo dia un parere nettamente negativo. Ma voglio dire una cosa, finché eravamo gli ultimi giorni a campagna elettorale arriva uno candidato con Unione Popolare arriva in ritardo, arriva, prende il microfono, interviene e va via perché dicevo la campagna elettorale. Allora questa roba qua vuol dire cioè non avere in mente che le lotte non sono una roba che tu puoi usare per fare propaganda, uno quando sta dentro una lotta. Intanto T-Mobility, vieni là, vieni là da solo o come quelli di qualche partito di qualche partito con la bandierina per far vedere e distribuiscono i volantini, quanti ne vediamo le manifestazioni che non rappresentano assolutamente nulla, è una cosa totalmente di ideologia pura che non hanno mai fatto niente per spostare, per cambiare lo stato di cose presenti e però sono a dare il verbo, a dire quella che sembra qualcosa di religioso quasi, entriamo nel mondo mistico quando tu prospetti un qualcosa di una rivoluzione e non si capisce cosa dovrebbe essere, il crollo del capitalismo o roba del genere. Questo per dire che abbiamo bisogno di modificare proprio il modo, il linguaggio che abbiamo, ma il linguaggio che non è solo le cose che diciamo, ma come ci rapportiamo, come impariamo a relazionarci, no? Prima si faceva l'esempio, appunto le robe, sicuramente saremo presenti al 22 ottobre a Bologna perché riteniamo che sia una roba concreta, vera, una lotta vera perché anche là si vuole costruire un nuovo passante che ha, ovviamente si muove in quell'ottica là di sviluppo e di aumentare sempre più la circolazione dei mezzi privati, su gomma eccetera, qualcosa che è contrario a quello che abbiamo oggi come necessità, che quindi invece di ridimensionare sempre di più il consumo di suono da una parte, ma anche l'uso di mezzi privati. E saremo presenti ovviamente, vediamo se riusciamo anche il 5 novembre a Napoli, perché anche quella è un'altra data importante, sulla questione, ripeto, del 2 dicembre non lo sappiamo, vedremo cosa si potrà fare, però l'elemento che noi continuiamo a ribadire, che è molto più importante riuscire a costruire una mobilizzazione sul lavoro povero e capire quante sono le realtà che sono in grado di mobilitare chi lavora sui servizi fiduciari, chi lavora sulle pulizie, chi lavora su alcuni comparti, vuol dire, legati magari al turismo, chi è in grado, educatori sociali, queste sono tutte le componenti della composizione di classe, del lavoro, vuol dire che hanno, prima diceva Dario, una paga dignitosa per poter avere 1.900 euro, qua siamo a 700 euro al mese, lavorando 170 ore al mese, siamo per le pulizie a 1.000 euro scarsi se lavori appunto 170 ore, questa è la condizione che abbiamo per chi sta lavorando oggi, devo dire, quindi costruire ha molto più senso, costruire una mobilizzazione, mettere in rete tutto quello che si muove, cosa rappresenti tu su questo terreno qua, piuttosto che fare uno sciopero generale, non è che non cambia nulla a punto di vista dei rapporti di forza generali. E questa è la dimostrazione che abbiamo avuto nella logistica, se noi non avessimo applicato questa ottica qua nella logistica, dove, e lo diciamo all'infinito, abbiamo prodotto, abbiamo stravolto completamente quello che era il mondo della logistica, dove le cooperative la facevano da padrone, una flessibilità impressionante e selvaggia del lavoro, eccetera, eccetera, abbiamo migliorato il contatto nazionale, cambiato i rapporti di forza, perché abbiamo messo insieme una logica di intersindacalità, come la intendiamo noi, piuttosto che invece mettere assieme, assommare sigle sindacali per vedere come si mette d'accordo per cambiare il mondo. Questa roba qua non può funzionare, perché io penso che di strada ne abbiamo ancora molta da fare, però o si va in questa direzione, oppure non c'è storia. E noi ci muoviamo e cerchiamo in tutti i modi di costruire e cercheremo di proporre, anche sulla questione, ad esempio, del lavoro povero, di quelle forme di sfruttamento che sono oggi inaccettabili, anche qua, quando si paga il salario minimo, vuol dire, e vediamo, i CGL propongono, non di dire, stabiliamo che sia almeno 9-10 euro all'ora, no, bisogna vedere, perché in base ai contratti nazionali che ci sono, bisogna valutare, vedere, quindi anche quello che è l'indicazione della Commissione europea, che dice che dovrebbe essere così, però in realtà poi non si trasformerà in un salario minimo effettivo, è una battaglia per il salario minimo anche europeo, quindi per questo è importante, abbiamo i paesi, appunto, Polonia, Romania, eccetera, dove abbiamo salari a 3-4 euro all'ora e dove vanno a portare le aziende, perché il costo del lavoro è un quinto di quello che c'è qua in Italia, quindi bisogna costruire anche dinamiche a livello europeo, che pongono per l'Europa, si parla dell'Europa, ma l'Europa l'hanno allargata a 27 paesi, perché, vuol dire, conviene il capitale, la possibilità di andare a investire dove la forza di lavoro costa un cazzo, questo non è che c'è un sogno di Europa, no, come quelli che venivano ipotizzati, no, ancora dai tempi del fascismo, da chi era isolato, no, al confino, no, a ventotene, eccetera, questo è un po' la cosa, per cui io credo che c'è tanto lavoro da fare su questo, c'è molto da cercare anche di capire, di far capire a chi, a tutte quelle realtà con le quali abbiamo rapporti, che la strada da percorrere non è facile, non ci sono scorciatoie, gli soppri generali non spostano nulla se vengono concepiti in questo modo e quindi bisogna cercare di percorrere altre strade e di farle appunto con chi quantomeno si ritrova d'accordo con questo tipo di impostazione. Grazie.